sicuramente chi è in grado di abbandonare un animale non sarà interessato a questo messaggio ma io ci tengo comunque a dire che abbandonare un animale non è soltanto un gesto disumano è anche illegale pensiamoci con la testa e con il cuore se non potete più prendervi cura del vostro animale perlomeno rivolgetevi a centri organizzati ci sono canili rifugi veterinari non abbandonate un animale non lo fate e se non potete più prendervene cura perlomeno fate un ultimo gesto di altruismo e affidatevi a chi vi può aiutare mi raccomando non abbandonate gli animali prendetevi cura di loro come fanno loro con noi ogni giorno